Stasera alle 20.30 al Palaroma per i quarti di finale Scudetto, gara 3, di nuovo di scena, acqua e sapone in grossa e maritime Augusta. Gara 1 portò imprevedibilmente male, finito a 5 tra Iella giornata storta generale e meriti indiscutibili dei siciliani, che però nella propria tana hanno dovuto poi ammainare bandiera bianca al cospetto di un ritrovato quintetto, quello angolano, impenetrabile, vittorioso per 4-0 con l'antico senso pragmatico e dall'alto di una classe che non poteva dileguarsi per effetto di un solo match. Correttivi giusti di Perez, gruppo rigenerato che stasera non potrà proprio fallire. In semifinale l'acqua e sapone unigrossi incontrerebbe in Napoli sabato 11 ancora al Palaroma. Se con l'Augusta dovesse finire in parità, via ai supplementari, in caso di ulteriore parità i nerazzurri passerebbero senza ricorrere ai gori di diritto, grazie al miglior piazzamento della prima fase. Biglietti in vendita presso i botteghini dalle 17 di oggi, prezzo unico 5 euro, gratis dai 12 in giù se accompagnati da un adulto.